Quello che stiamo facendo da tanti anni lo facciamo qui nella scuola di Pianodaccio oggi con un intervento significativo con soldi e risorse del bilancio comunale, quindi una scelta politica forte che nasce da un'interlocuzione con il territorio, con i comitati di quartiere di Pianodaccio e di Nepezzano, con l'istituto scolastico. Un confronto partecipativo che ci consente oggi di restituire, anzi di far nascere un piccolo polo scolastico in un'area significativa del nostro territorio per consentire ai nostri bambini, al nostro futuro, di vivere gli spazi scolastici nel modo migliore possibile. Oggi siamo qui a inaugurare il cantiere e speriamo prima della riapertura, quindi nel mese di settembre, di poter venire qui a inaugurare la scuola nel vero senso della parola. È un'attività importante, sono 550 mila euro che l'amministrazione ha messo di fondi propri per poter realizzare questo importante progetto. I lavori contempleranno il rifacimento del manto di copertura, la realizzazione di una scala di emergenza e un impianto importante di ricambio dell'aria che sarà il primo impianto a norma Covid che garantirà ai ragazzi che stanno all'interno di non respirare sempre l'assessario, di tenere le finestre aperte. Quindi è la prima scuola nel terramano che avrà questo impianto e che potremmo definire sicuramente un impianto innovativo sotto il profilo anche sanitario. Quindi gli aspetti non sono solamente quelli della prevenzione incendi, della messa a norma impiantistica e rifunzionalizzazione della struttura, ma anche sotto un profilo sanitario abbiamo pensato di dare un qualcosa in più. Questo importante progetto prevede un ulteriore step che faremo negli anni successivi di realizzazione di uno spazio all'interno del giardino che sarà adibito ad attività, praticamente attività ginnica e attività motoria dei ragazzi. Quindi il progetto si concluderà con la realizzazione di uno spazio per l'attività motoria, ma che non possiamo fare in questa fase, ma faremo nei prossimi anni. Grazie